Wewe ragazzi e bentornati nel decimo episodio di salva il mondo che vorrei Ebbene si raga siamo arrivati al decimo episodio finalmente Durante il corso di questa serie ormai sarà passato più o meno un anno dal primo episodio Anzi precisamente un anno e tre mesi Molte cose che sono state viste sono state introdotte su salva il mondo Molte purtroppo no Ma come voi tutti ben saprete questa serie è nata dalla nostra passione per l'ampliamento di quello che riguarda salva il mondo Le idee da parte degli utenti comunque non continuano a mancare Infatti oggi vedremo negli ultimi mesi quali sono state le idee che hanno ricevuto sempre più voti E anche quelle un attimo più bizzarre Beh che dire io vi auguro una buona visione Con solo 95 voti ma secondo me ne meritava molti di più Abbiamo questo concetto per quanto riguarda un drone Un drone molto differente da quello che utilizziamo come gadget Infatti l'unico scopo di questo drone sarebbe appunto controllare i nostri passaggi Senza dover andare a interferire direttamente col personaggio Simulando appunto il volo di un drone Possibilmente non rintracciabile dagli zombie Possiamo appunto tenere d'occhio quelli che sono i nostri tunnel e le nostre difese Senza appunto interferire con l'eroe Beh secondo me questa è un'idea che ci dovrebbe essere già su Salva al Mondo da molto tempo La promuovo a pieni voti Con 350 voti invece in collaborazione con Star Wars Sarebbe stato bello all'epoca ricevere anche delle spade laser di ogni differente elemento Non per forza che queste spade dovevano essere veramente forti Quanto più appunto l'introduzione in collaborazione con Star Wars Avrebbe fatto veramente piacere alla nostra community di Salva al Mondo Acqua, fuoco, natura e magari una d'energia sarebbe stato veramente perfetto Purtroppo questo concetto rimarrà sempre un concetto In tema con questa stagione per quanto riguarda l'altra modalità E ci riferiamo al fatto della nuova hub interattiva ed esplorabile Beh sarebbe stato figo vedere qualcosa del genere anche su Salva al Mondo Qualcosa magari più in 3D Magari anche più esplorabile col personaggio direttamente Ma in fondo tutti noi sappiamo che questo sarà impossibile Anche inutile ormai proporlo 950 voti per lui Sarebbe figo avere anche dungeon del genere Sempre un open world sviluppato per Montespago Con nuove classi Nuovo sistema di armi Nuovo sistema di missioni Nuovo sistema di progressione e nemici Il tutto svolto in una singola mappa Appunto il mondo aperto di Montespago Eh sì purtroppo penso che questo resterà sempre un nostro sogno Sarebbe anche figo vedere i flinger lanciare gli smasher Eh no forse meglio di no La prossima attenzione è un'idea davvero davvero articolata Mi concentrerò molto di più sulla terza piuttosto che sulle prime due Allora praticamente le prime due vogliono significare che funzionerebbero praticamente in combo La prima tipo genera munizioni quindi raccoglie materiali e munizioni sul suo tile Mentre la trappola si riempie aggiunge un moltiplicatore alla generazione di munizioni La seconda praticamente sarebbe un aspirapolvere che andrebbe messa sopra la prima Che risucchia praticamente tutte le munizioni e i zombie circostanti la vedo un po' una cosa troppo complessa per salvar il mondo E quando appunto risucchia gli zombie eccetera li sposta solamente di un tile E cosa farebbero praticamente insieme? Niente che i materiali che collezioni li tramuta in materiali più rari Praticamente sarebbe questo il loro funzionamento La vedo un'idea molto molto complessa Mi concentrerei molto di più sulla terza trappola che mi sembra un'ottima idea Il lavabietti Tutti amano il nuovo abietto luccicante Questo lavabietti lascia appunto gli abietti con delle bolle sopra la loro testa Rallentandoli per un breve periodo La cosa particolare è che andrebbe a rimuovere l'elemento sopra di essi Quindi facendoli tornare alla forma basica Ovvero in fisico Beh questa la vedo come una gran figata raga Possibile metterla anche su appunto i muri editati ad arco Secondo me sarebbe veramente veramente bello vederla introdotta Sarebbe anche figo far poter suonare delle playlist diverse alle trappole sonore Chissà magari questo in futuro sarà veramente possibile Non che la ritenga una funzione necessaria ma sarebbe una bella idea Ecco questa invece è un'idea che voglio assolutamente vedere implementata nel gioco Poter personalizzare il proprio piccone su salva al mondo Quindi incrementando o la velocità d'attacco oppure il danno Cioè sappiamo che comunque il pietralegno e i livelli Da pietralegno, tavolaccia, vallargute, montespago Cambia il tipo di piccone, cambia anche il tipo di danno che fa Ma sarebbe bello appunto una volta arrivati all'ultimo piccone Aver la possibilità semplicemente di personalizzarlo Magari avere un piccone che piccona più veloce Che ne so tipo una velocità quando mangiamo un buffer Piuttosto che utilizziamo il grido di guerra Poterla avere magari perennemente Piuttosto che andare a incrementare il danno base Quindi spaccare le cose con molta più facilità E quindi potenziare le perk e poterle cambiare E sperimentare anche quel lato positivo dei picconi Poterci mettere anche la velocità di movimento Piuttosto che doverci mettere ogni volta il barone in mano Insomma sarebbe una bella idea E sapete anche quale sarebbe un'altra bella idea? Finalmente creare un bioma apposta per montespago Infatti montespago è soltanto una replica diciamo di vallarguta È solamente una replica di tavolaccia È tutto mescolato tutto insieme Non ha una vera propria identità Ma sarebbe bello finalmente assegnare un vero bioma a montespago Insomma se lo merita dai Ma la cosa più probabile sarà in futuro vedere l'arco mitico Dai lo so che lo stai pensando anche tu È una cosa che sicuramente vedremo implementata nel gioco Ehi ci tengo a dirvi che ovviamente queste sono solo idee di utenti E non concetti creati dalla Epic Oh attenzione perché qui abbiamo un'idea davvero particolare So che questo andrà a fare dello scetticismo Ovviamente non a tutti piacciono i giochi in prima persona Però come tutti voi ben saprete Su Fortnite esiste anche la modalità in prima persona Per chiunque di voi l'abbia provata Per chiunque di voi si sia cimentato in tale impresa Si sarà accorto di quanto sia impossibile veramente usufruirne Beh fare un rework della modalità in prima persona di Fortnite Sarebbe veramente una cosa molto molto carina È vero che Fortnite è un gioco sviluppato Per appunto giocarci in modalità terza persona Però appunto migliorare un po' la modalità in prima persona Visto che noi giocatori di salvo al mondo potremmo anche usufruirne Beh sarebbe una bella idea Anche magari solo assegnare la modalità prima persona Che ne so a un tipo di dungeon Potrebbe essere una bella iniziativa E potrebbe dare a salvo al mondo Quel tocco di classe in più Allora invece questo utente con 350 voti Ha proposto appunto la possibilità di votare Per l'espulsione di altri giocatori Questa è una cosa che dà molto da pensare Perché in sostanza magari su tre amici Hanno bisogno di fare un posto E ipoteticamente potrebbero chiccare la quarta persona Che magari sta contribuendo al gioco E appunto in poche parole fargli perdere le ricompense Quindi questa funzione non ce la vedo Bene introdotta su salvo al mondo Secondo me gli utenti finirebbero con l'abusarne molto facilmente E in molte circostanze soprattutto Anche perché dai ve lo immaginate un 130 a pietralegno Che si rifiuta di scambiare E questo era tutto per il decimo episodio di salvo al mondo che vorrei Io ragazzi vi ringrazio di aver guardato fino a qui il video Vi ricordo di lasciare solo un bel pollicione in su Per farmi sapere se vi è piaciuto Mi raccomando di iscrivervi al canale E attivare la campanella per i prossimi video Noi ci vedremo sicuramente nel prossimo episodio Per ora Bella Bella Ciao 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 Ciao